Minimo barico in formazione sul Mar Ligure in approfondimento nelle prossime ore, dalla sera di mercoledì pressione in aumento, formazione di un nuovo minimo sul Mar Ligure nel pomeriggio sera di giovedì. In Toscana mercoledì 26 febbraio nuvoloso con piogge, rovesci sparsi e isolati temporali più diffusi nel pomeriggio, migliora in serata a partire da nord-ovest, neve in appennino sulle cime ma in abbassamento già a metà giornata e fino a localmente 700-800 metri nel tardo pomeriggio sull'appennino orientale, venti moderati forti occidentali tendenti a maestrale in serata, mari fra agitati e molto agitati, temperature minime della mattina stazionaria, mentre le minime della giornata si registreranno in serata, massime in sensibile calo. Sul territorio provinciale molto nuvoloso, coperto con piogge, schiarite dal pomeriggio fino a sereno in serata, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 8, massima 15 gradi, a Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 3, massima 15, a Viareggio sul litorale minima 10, massima 16 gradi. Giovedì da sereno fino a molto nuvoloso coperto, con pioggia anche di forte intensità, temperature in ulteriore calo, su valori più consoni alle medie del periodo. Giovedì! Giovedì! Giovedì!